Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al libro di Tenera Mata, che certamente anche questa sera ci porterà su lidi abbastanza avvincenti come normale per questa particolare avventura, chiamiamola così vicenda, evento straordinario che ci consente di alzare qualche piccolo velo sulla vita che ci attende, che peraltro è il sottotitolo di questo ciclo di catechesi. Ci siamo lasciati la volta scorsa con Tenera Mata che aveva portato Riccardo a fare la visita ad un'altra sua fiamma d'amore bianca e abbiamo visto come Tenera Mata gli ha mostrato come potesse essere possibile rimodellare un po' le fattezze di questa sua fiamma che diventata adulta aveva delle cose meno attraenti rispetto a quando era fanciulla e invece altri più attraenti rispetto a quando era fanciulla e attraverso questa operazione Tenera Mata ha fatto comprendere a Riccardo che gli amori celesti avranno questa caratteristica che ciascuno si adatterà ai gusti che si attende il suo amante celeste e quindi gli piacerà perfettissimamente senza difetti. Riprendiamo da qui, ho rifatto questa introduzione perché vedremo poi anche queste cose applicate addirittura al nostro Signore Gesù Cristo. A me mi, come dire, intanto mi sorrido un po' perché mi arrivano diverse mail relative a Tenera Mata con gli argomenti più svariati. Una domanda un po' particolare era ma i sacerdoti ce l'avranno anche loro gli amori celesti oppure no? L'amore universale, figlioli miei cari, è per tutti insomma. Cioè voi immaginate se uno fosse un prete, ha visto tutte quante queste cose meravigliose e dice no però siccome io sono prete per me non c'è niente. Il problema è che continuo a raccomandare che quando si ascoltano queste cose non si possono proiettare i nostri schemi mentali terreni sull'altro mondo. Noi non possiamo e non dobbiamo pensare agli amori celesti al modo degli amori terrestri. Anche se qui sulla terra ci sono state, ecco. Poi c'è un'altra cosa importante da dire, qui intercetto sempre una cosa. Attenzione che come è stato già accennato la volta scorsa, qui sulla terra stiamo in stato di interdizione. Queste cose non sono per qua giù, sono per lassù. Non venisse in mente a nessuno, né prete, né laico, né sposato, di andare ad accarezzare o a coltivare, siccome nell'eternità creata in paradiso come quella occidentale, godrò di questa persona verso cui sento una certa attrazione, proviamo a coltivarla anche se in maniera platonica. Oh mi raccomando, perché qui non c'è la coltivazione platonica, d'accordo? Qui chi è sposato se ne sta buono con la moglie e col marito è stop. Chi non è sposato non se ne sta con nessuno, d'accordo? E chi è consacrato ancora meno. Quindi attenzione, perché non dimentichiamo. Qui stiamo in stato di interdizione, qui c'è il peccato originale. Quindi non possiamo assolutamente avventurarci in viaggi di prova di quello che sarà. Per nessun motivo, mi raccomando. Altrimenti la lettura di queste cose, anziché diventare una fonte di consolazione, può diventare la causa di rovina. Cioè c'è uno scarto immenso tra qui e dopo. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Fatte queste premesse, che riprendono un po' gli argomenti, li situano e ammoniscono da alcuni possibili fraintendimenti, per la verità sempre in agguato, quando purtroppo si parla con termini umani, che il nostro linguaggio è sempre imperfetto. Quindi, vabbè. Allora, riprendiamo la lettura. Con Riccardo, che avendo visto alcune cose, comincia a riprendere con il dire. Quindi i beati più alti godono di migliori e più numerosi amori celesti. Suggerì la mia invidia. Quindi, i beati più alti godono di migliori e più numerosi amori celesti. Già questo dovrebbe dire, per esempio, Padre Pio starà molto in alto, no? O no? In paradiso. Secondo me sì. E quindi, gode di migliori e di più numerosi amori celesti. Sì, risponde Teranamata, perché lo hanno meritato mediante le loro opere di amore e di carità. Con questo spero che ti sforzerai per raggiungere una grande gloria futura. Farai godere di più tutti noi abitanti del cielo. Attenzione che quando parla di amore e di carità non pensiamo semplicemente alle operette di carità, per carità importanti. Amore di carità con la A e con la C maiuscola è anzitutto l'amore di Dio. Cioè, quanto hai amato Dio in questa vita? Quanto gli hai dato? Quanto ti sei sacrificato per Lui? Quanto hai camminato verso la santità per amore Suo? Ti sei emendato dai tuoi difetti? Quante riparazioni gli hai offerto? Quanti sacrifici gli hai offerto? Quanti atti d'amore gli hai offerto? E poi, certamente, anche quante opere buone hai fatto verso il prossimo? Quante parole buone hai detto? Quanti buoni consigli hai dato? Quante lacrime hai asciugato? Quanta elemosina hai fatto? Quanti beni hai condiviso? Mi ricordo il spirito del corpo e il corporale. Certo, va bene, però non fraintendiamo. E, capite, un beato che raggiunge un alto grado di gloria in cielo, ridonda su tutti quanti gli altri beati. Quindi i beati fanno il tifo che noi possiamo andare in paradiso. Un tifo anche un po' egoistico, perché ne va anche del loro ulteriore godimento maggiore, perché ciascuno di noi si porta in paradiso, abbiamo già visto tante volte, la propria individualità unica e irripetibile. Che quindi causerà a chi entra in contatto con quell'individualità un tipo, una forma di gioia e di felicità unica, diversa, da quella di tutti gli altri. E più in alto va e meglio è, perché più in alto va e più ne godranno. Allora, ebbene, il nostro Dio ti permette, sia pure in minima parte, che tu veda realizzato il tuo desiderio. Ti osserva di nuovo Bianca, ma non ti avvicinare. Il suo periodo di infanzia si è coordinato con quello del suo splendore giovanile. Ci siamo lasciati che aveva espresso questo desiderio, no? Bianca, che era passata oltre, si volse verso Dio. La vedi camminare sicura di sé, ma senza arroganza. Vedi il suo sguardo dolce, promettente un tenero amore. Era vero. Lei splendeva più affascinante, d'accordo con il mio ideale di donna. Era veramente una bella ragazza, splendida e tuttavia ingenua pura. Straordinaria meraviglia. Bianca corrispondeva all'ideale della mia donna amata. Appena superato dalla mia amata visitatrice, cioè da tenera amata. Le gambe esattamente modellate, fantastico. Gli occhi colore marrone scurissimo erano diventati caffè chiaro. proprio identici a quelli di tenera amata. Uè, non credere che ho prestato i miei occhi a bianca, eh? Disse, ridendo di buona voglia nel vedere il mio stupore. Il cambiamento del colore della pelle, degli occhi, delle ciglia è la cosa più facile. Perfino i mortali potrebbero praticarlo se sapessero un po' più di biochimica. E a me non è che mi dispiacerebbe tanto, però c'ho sempre il mio sogno nel cassetto degli occhi azzurri, ma c'ho questi castani, ma vanno bene così, no? Perdonatemi la battuta che ogni tanto, ecco. Stempera un po'. Biochimiche, amici. Che i beati, evidentemente, gestiscono alla perfezione, sapendo anche dove andare a mettere le mani. Riccardo esclama, Stupendi gli spazi tempi della quinta dimensione, grazie ad essi in cielo è possibile realizzare l'onesto attenzione, desiderio amoroso che restò frustrato in questo mondo. Ecco, attenzione a quello che dice, ribadisce quello che ho detto all'inizio di questa puntata. In questa vita vi furono delle intenzioni che per molte cause, quasi tutte relazionate col peccato, aprire bene le orecchie, non poterono effettuarsi. Ma furono desideri leciti, sono esseri di ragione, bene, nel cielo possono ricevere esistenza reale. Qui no. Avrai osservato, aggiunse Teneramata, che ogni cristiano si forma più o meno idealizzata l'immagine fisica di nostro Signore Gesù Cristo. Ce l'abbiamo tutti, no? Di lui ci sono tante immagini quante la fantasia dell'uomo. Il cinema e la stampa tentano di raffigurare, secondo i gusti odierni, il suo aspetto fisico e il suo modo di essere vestito. Questo non è frivolezza, né mancanza di rispetto, è un impulso dell'istinto della gloria futura che sente nostalgia delle usanze e della beatitudine. Cioè non è una cosa strana che io cerco di immaginarmi come era fatto nostro Signore, come era vestito, come andava in giro, o come era fatta la Madonna, come andava in giro vestita la Madonna, come era il suo portamento, come camminava, come muoveva, come gesticolava. Tutto normale, perché nella beatitudine queste cose le vedremo, è un'anticipazione imperfetta. Prosegue, il Signore manifesta un'infinità di volti nella sua natura umana. Ad ogni glorificato si manifesta in un modo diverso, sempre amabile, d'accordo con il grado di felicità raggiunto dal viatore e con il nome nuovo che gode in cielo. E qui torna sul nome nuovo. Il nome nuovo indica in modo sottile, abbiamo già visto tante volte, come il nostro Dio ama e vuole essere amato assai singolarmente da questo Beato. Il nostro nome nuovo indicherà questo. Quell'amore particolare che solo per me avrà Dio per me e quell'amore particolare che solo io avrò per Dio. E questo comincia da questa vita, se entriamo in una dinamica di preghiera profonda. E vi auguro a tutti di poterlo fare, anche se evidentemente in forma embrionale, incipiente. La manna segreta esprime, Nome nuovo e manna segreta sono nel libro dell'Apocalisse, l'abbiamo già visto a suo tempo, quindi non sono invenzioni, esprime la capacità concessa dall'Altissimo che l'uomo glorificato ha per sostenere e godere quella precisa sfumatura dell'amore divino, che sono infinite, e per contraccambiarli in quello stesso modo unico e ripetibile. Inoltre, la manna segreta rappresenta la squisita fruizione principale che ogni Beato riceverà da tutto l'universo. Capite che vuol dire godersi tutto l'universo con una fruizione speciale? Tutto l'universo, abbiamo già detto la volta scorsa, credo, minimo 5 miliardi di galassie, minimo, secondo le previsioni, diciamo così, più... Ecco, minimo. Insomma, tanta roba, no? Che se non ci abbiamo idea di che cosa circola in giro. Volevo anche a questo proposito, Teneramata non dice nulla, perché c'è molta gente che dicevo mail perché negli scritti di Maria Valtorta facciamo adesso una contaminazio, Gesù lascia intendere, chiaramente, che esistono altre forme di vita possibili. Allora cominciano a dire, no, allora, ma Don Giuseppe Tomaselli ha detto che gli UFO, i marziani e gli alieni sono cose che vengono dal diavolo. Allora, amici, se per uscire dalla Via Lattea ci vogliono 100 miliardi di anni, no, dunque, 100 mila, no, 100 mila è purtroppo, 100 mila anni luce, viaggiando alla velocità della luce, ipoteticamente. No, scusate, ci vogliono 110 mila anni, non luce, se ci fosse un'astronave che viaggia alla velocità della luce, cosa che non sarà fatta mai. vi rendete conto cosa significa 110 mila anni? Qual è un uomo che campa 110 mila anni? Nessuno può uscire dalla Via Lattea, non tra noi mortali. Allora, è chiaro che tutte quante quelle cretinate che girano, UFO, alieni, marziani, cose di questo genere, se queste cose fossero vere, io sinceramente sono sempre molto scettico, ma supponiamo che ci fosse qualche materializzazione di questa roba qui, è chiaro che questi sarebbero diavoli. Perché? Perché io non credo che altre forme di vita, dovunque siano, possano violare queste distanze. come caspita fai andare alla velocità della luce? Cioè, questo vale anche per, cioè, se in altre galassie, ed è qui, secondo me, che esistono altre forme di vita, ci sono, cioè, quello che vale per noi vale anche per loro. Cioè, io credo che, qualora ci siano, e anche Padre Pio, quando gli chiesero, siamo soli in tutto l'universo, gli disse, e che pensi che il nostro Signore ha fatto tutto questo soltanto per noi? Eh, insomma, cioè, noi non sappiamo nulla delle altre galassie, capite? Zero, se non supposizioni. Quindi, Dio ha stabilito che queste forme di vita, in questa dimensione, nel tempo, non possono entrare in contatto. Quindi, se ci sono delle manifestazioni strane, sicuramente, sono da attribuire alle forze negative, perché il diavolo non ci mette niente a materializzarsi e a fare i giochettini da E.T., l'extraterrestre. Quindi, ma, da qui a concludere che siamo soli in tutto l'universo, è un altro discorso. Immaginate se faremo, se un giorno faremo qualche viaggio interstellare in qualche galassia che andiamo a scoprire, quello che Gesù lascia intendere negli scritti di Maria Valtorta è che ci sono e come altre forme di vita, ma che noi esseri umani, amici miei, questo non è che ci fa molto onore, siamo la vergogna dell'universo, perché noi esseri umani abbiamo peccato, abbiamo violato la volontà di Dio, costringendo, tra virgolette, in un certo senso, Dio non è costretto a fare niente, ma costringendo nel senso che o viene compiuta la redenzione o noi siamo tutti quanti perennemente eternamente spacciati e quindi mosso dall'amore Gesù è sceso a redimerci, ma a quel prezzo siamo in quaresima, stiamo, quindi bel capolavoro che siamo, noi abbiamo fatto questo a quello che lascia intendere altri nostri colleghi intelligenti in qualche modo, perché sicuramente devono essere intelligenti in qualche modo, esistenti da qualche parte sperduta chissà dove nell'universo, questa protervia non ce l'hanno avuta e questa stupidaggine non l'hanno fatta, questo è quello che, però queste sono molte cose evidentemente lasciate alla più assoluta libertà, d'accordo? Assolutamente proprio, perché non c'è nessun modo di, non dico soltanto di dimostrarlo, ma neanche di, ecco, è soltanto come dire, un giudizio di verosimiglianza, cioè, perché, voi capite, cioè, nella via Lattea pare che ci stiamo solo noi, pare che ci stiamo solo noi, ma capite quanto è grossa? 110.000 anni percorrendola alla velocità della luce? e insomma, già è qualche, allora, tuttavia, devi notare, riprendete, la lamata, stiamo parlando del nome nuovo e della manna segreta, ho detto queste cose, perché, squisita fruizione principale che ogni beato riceverà da tutto l'universo, tutto l'universo, ma capite? è tutto l'universo, cioè, ce l'abbiamo da fare, ecco, tuttavia, devi notare che il nostro Dio impone una condizione, poi che dice, al vincitore darò una manna segreta e gli darò un sassolino bianco su cui è inciso un nome nuovo che nessuno conosce all'infuore di chi lo riceve, questo è Apocalisse 1,17. Il creatore parla dalla sua eternità assoluta, attenzione, la dimensione di Dio non è l'eternità creata, è l'eternità assoluta, non dal tempo e dallo spazio terrestri. Quindi, nel linguaggio della quinta dimensione, al vincitore vuol dire a chi sta vincendo. Pertanto, quando progredirai nella perfezione cristiana e starai trionfando sui nemici della tua salvezza eterna, già dalla terra incomincerai a scorgere il tuo nome nuovo e quella divina sfumatura d'amore alla quale ti ha chiamato singolamente il Signore dalla sua eternità assoluta. Avete capito cosa sto dicendo? L'ho detto prima. Cioè, nella misura in cui tu diventi veramente santo, non per scherzo, quindi progredisci nella perfezione cristiana e entri quindi in questo rapporto già attuale con Dio, già cominci nel godere la presenza di Lui a intuire qualche cosa di quello che sarà. Incomincerai a scorgere il nome nuovo e quella divina sfumatura d'amore che ce l'hai solo tu. allora la tua sorpresa sarà grande quando contemplerai come quel sottile aspetto amoroso della tua personalità corrisponde al disegno vagheggiato dal Signore su di te e anche ai tuoi più cari desideri coscienti e subcoscienti attuali e futuri in questa vita e nel cielo se uno comincia a vivere questo fa proprio strike ecco perché chi vive questo e qui ci ricolleghiamo con gli iscritti di Luisa sulla Dina Volontà sperimenta la felicità in terra la felicità in terra è una cosa è meno della beatitudine celeste ma è tanta roba se una persona sta in questo orizzonte quando gli chiedono se è felice ma non ci pensa neanche un istante e quando pensa alla sua vita e si mette dinanzi a Dio pensa questa cosa qui vita più bella di questa Signore non potevi darmi non perché la tua onnipotenza non potesse fare di tutto e di più ma io sono talmente contento che non c'ho niente da chiederti più di quello che mi hai dato prosegue tenera amata ti troverai colmo di speranza quando potrai intravedere il tuo nome nuovo e addirittura e addirittura sentite bene il suo misterioso rapporto con le tue virgolette qualità negative che negli altri causano vergogna risate o avversione addirittura cioè la nostra personalità del tutto specifica dice qui traspare è in qualche modo tradita addirittura da quegli aspetti non troppo edificanti della nostra personalità e quando uno comincia a vivere questo prosegue lascerai di preoccuparti delle tue limitatezze e dei tuoi difetti certo attenzione che non siano peccaminosi perché li guarderai nella luce dell'aldilà li accetterai come parte del dolore che ti corrisponde nella redenzione come stimoli per accrescere la fede e l'amore di carità e come preziosi pegni e gradevoli di pregustazione della futura beatitudine capito il senso no qui chiaramente non è che si parla di quei difetti che che sono peccaminosi no perché se uno hai racondo non è che siccome hai racondo questo fa parte della sua personalità che poi farà andrà ad integrare la sfumatura particolare dell'amore con Dio e se hai racondo è racondo quello è un difetto che va combattuto d'accordo ma appunto quei quegli atteggiamenti quei quei portamenti quei modi come dire non peccaminosi di essere o di porsi però che che magari a qualcuno possono dare possono dare fastidio possono possono urtare possono irritare o addirittura possono prenderti in giro da un lato questi concorrono a come dire a integrare quella personalità espressa dal nome nuovo dall'altro una persona proprio smette di preoccuparsene e dall'altro ancora quando si tratta come dire di difetti un po' mortificanti si accettano e si offrono tranquillamente e serenamente pensiamo per esempio a quei difetti fisici di Bianca che come si dice che Riccardo voleva correggere vedete che c'è tuttavanti una branca io non ho mai approfondito ma ne sono convintissimo c'era una canzone di Battiato si chiamava la Fisio Gnomica che parlava di questa cosa qui Fisio Gnomica cioè la gnome del fisio cioè attraverso i particolari delle nostre fattezze corporee scoprire i meandri della personalità dai muscoli del collo e degli orecchi il tipo di tensione e di chiusura mi ricordo io ascoltavo Battiato dai muscoli del collo e delle orecchie il tipo di tensione e di chiusura poi il taglio del naso lo sguardo le ciglia le sopracciglia la forma degli occhi il taglio delle orecchie la conformazione delle mani cioè lavo il muscolatore a mio modestissimo avviso non voglio fare cioè questo discorso è sommamente fondato perché la nostra anima è tutta e dappertutto eh cioè non c'è parte del nostro corpo che non sia abitato dalla dall'anima e la la quintessenza del nostro essere quindi il nome nuovo non è che che dove sta è l'anima che ce l'ha quindi è chiaro che poi andare a approfondire si apre un mondo non credo che sia così semplice però qualcosina a me dico insomma sembra 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 di intuirla così come se uno studia bene i portamenti e i gesti che le persone fanno no l'espressione del volto i tic e i modi appunto di di stare seduti di camminare e se tu conosci bene una persona e poi ti studi questi particolari vedrai come questi questi particolari sono proprio espressibili di ciò che quella persona è vabbè andiamo avanti che se no divaghiamo apriamo il capitolo 27 mi dispiace che Bianca abbia lasciato la sua gloria dice Riccardo per venire al cortile dell'università disse a Teneramata quando Bianca si allontanò e Teneramata risponde ma non ha abbandonato il cielo nessun beato può lasciare la felicità della vita eterna pensate che non si può non si può lasciare la felicità della vita eterna per fare questo esperimento è bastato che lei si multilocasse partecipazione dell'onnipresenza divina no? l'anima sua gloriosa attenzione ha animato coscientemente perfezionandoli alcuni spazi tempi del suo organismo integrale ha corretto la sua personalità proprio come tu desideravi come un anticipo di come si acconcerà per affascinarti troppo bello lei è uno degli innumerevoli amori che il Signore ha prestabilito per darteli nella tua gloria accidentale capite? innumerevoli amori e poi ti arrivano le mail ma i sacerdoti nisba perché vedete cosa c'è dietro questo ragionamento siccome il sacerdote non è sposato e ha fatto voto di castità orrore orrore può avere una cosa di questo genere no assolutamente è sempre un prestare come dire la quarta dimensione o la quinta per farmi un attimo capire è chiaro che qui non se ne qui è castità assoluta qui è purezza assoluta qui è distanza assoluta riservatezza assoluta d'accordo e chi è cosa cazzo non ci pensa neanche per l'anticamera del cervello perché Dio non è che basta basta e stra avanza d'accordo con tutto il rispetto parlando figlioli miei cari cioè quando uno conosce il top che è il nostro signore cioè in questo mondo gli amori umani non sono belli come saranno in paradiso chi ha chi è sposato a meno che non si abbia fatto roba bingo di un matrimonio strepitoso lo sa perché non c'è persona umana qui che non abbia un sacco di difetti un sacco di cose per cui c'è qualche cosa carina però per altri aspetti non è tanto gradevole per cui la presenza come dire di un'altra creatura in questa vita non la puoi desiderare se c'hai il top perché 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 l'imperfezione strutturale ma nell'altro mondo non è così perché ciascuna creatura modo proprio è perfetta quindi non va a fare come dire in qualche modo c'è che dice ma io sto tanto bene con il nostro signore ma che ce faccio no dice sto tanto bene con il nostro signore ma una sfumatura di perfezione creata di nostro signore la vivo con un altro ente creato ma questo non è possibile qui chiusa parentesi lei è uno degli innumerevoli amori che il signore ha prestabilito per darteli nella tua gloria accidentale tuttavia bianca non ha comunicato al suo corpo la splendida integra bellezza che le corrisponde secondo il suo grado di gloria adesso prima che leggiamo secondo voi perché ormai dovremmo averlo capito no comunque leggo dice e perché non ha mostrato la sua bellezza totale perché saresti morto di ammirazione e di amore per lei capito attenzione non è oh e mica ha visto la madonna eh ha visto una creatura cioè se la creatura arrivata in quello stato mostra tutta la sua splendida integra bellezza corrispondente al suo grado di gloria ci farebbe morire di amore morire proprio morire morire andare incontro alla morte corporale non potremmo contenere una quante volte durante questi scritti dice saresti morto saresti morto di gioia saresti morto di non posso non posso per bacco pensai teneramata e bianca sono le donne più belle che ho visto in vita mia e adesso risulta che le contemplo appena superficialmente ma come sarà la loro splendida bellezza celeste ma che gusto quando potrò baciarle al modo compenetrativo ah voglio andare via da questo mondo non sopporto il legame della mia coscienza al momento attuale non so più stare in questo mondo comincia a capire qualcosa e quindi dice ma via via capite perché scusate scusate un attimo una piccola parentesi adesso qui ci sta teneramata ma io pure prima che c'essi teneramata ma qualunque persona che sia cristiana paura della morte paura della morte ho capito bene paura della morte ma soltanto perché perdonatemi la battuta il suicidio è proibito ma se no subito paura della morte poi immaginate se i cristiani avessero questo nome provate a scusate ogni tanto i voli polemici no scusate un pochino provate un pochino ad andare indietro a quello che abbiamo visto che ci siamo lasciati alle spalle negli ultimi due o tre anni col terrore della morte su chi fa presa il terrore della morte sui non cristiani tu puoi essere battezzato comunicato e cresimato quanto ti pare adesso teneramata ci da qualche elemento in più ma basterebbe la fede perché la vita eterna esiste la beatitudine esiste dimenticati teneramata noi tendiamo verso la beatitudine e quindi che della morte c'hai paura della morte ci abbiamo paura in ogni caso però attenzione che qui teneramata corregge un po' il tiro non pensare così mi rimproverò questa vita è molto preziosa per il futuro celeste ecco un grande segreto ma quanti sono i cristiani che tutti i santi giorni che si svegliano anche oggi pensa a quello che hai fatto oggi stanno pensando questo è un altro giorno importante per il mio futuro celeste tu vai a dormire chi sta seguendo la diretta tra poco vai a dormire oggi che hai fatto perché il tuo grado di gloria venerdì di quaresima dai oggi abbiamo fatto qualcosa speriamo o hai fatto una giornata che ho fatto ho amato il Signore ho fatto qualcosa di bello per lui ho fatto qualche opera santa ho fatto un tubo questa vita è molto preziosa per il futuro celeste cioè una persona che prende sul serio queste cose ma capite cioè comincia a moltiplicare di tutte di più perché non è uno scherzo più santi diventiamo più in alto in gloria andiamo più in alto in gloria andiamo più queste cose qui saranno il nostro pane quotidiano anche questo non c'è bisogno di tenere amata la Chiesa questo lo ha sempre insegnato è che noi oggi ci crediamo più nelle catechesi sui novissimi lo stiamo vedendo quando si parla della vita eterna della risoluzione della carne in proporzione dei meriti in proporzione dei meriti non date retta a tutti quanti quei chiacchiaroni che farebbero bene a starsi zitti ah la misericordia di Dio la misericordia di Dio tanto andiamo tutti quanti in paradiso ma che significa sto discorso ma che razza del discorso è mica stanno tutti quanti uguali in paradiso mica è una persona che ha fatto carne da porco per tutta la vita scusatemi il termine e si converte una settimana prima di morire piange si confessa e vabbè per carità si è salvato gli va Dio no? ma che pensate che quello sta vicino al padre Pio in paradiso scusate e quando ci pensiamo al nostro futuro adesso ci devi pensare perché ogni giorno che passa è un giorno in meno per crescere in gloria quello che non hai fatto ieri non lo puoi fare oggi eh oggi puoi fare qualche altra cosa ma se ieri hai buttato una giornata quello non torna più non ti voglio far venire l'avvilimento però la coscienza che quello che hai buttato non torna più ti sproni a non buttarne più di giornate perché poi te ne pentirai quindi questa vita è molto preziosa per il futuro celeste e con tutto ciò è davvero molto povera ma non voglio avvilirti è meglio che parliamo di quello che hai appena visto in bianca il cambiamento svoltosi in lei fu reale e autentico niente è stato simulato eh all'occasione è durato brevi minuti ma sentite ma potrebbe persistere l'equivalente a migliaia di anni a piacimento tuo e suo voi sarete in grado di modificare la vostra personalità il vostro aspetto e il vostro corpo fisico in tanti modi diversi così vi godrete a vicenda l'ineffabile modo celeste in svariatissime forme e circostanze cioè spiego quindi solo con una persona attenzione premesso che di amori in cielo ce ne sono innumerevoli allora considerandole sono uno numero uno vi piacete così potete rimanere per mille anni a godervi così allora poi volete sballarvi un po' cambiamo si può modificare personalità aspetto e corpo fisico in tanti modi diversi in svariatissime formi e circostanze solo con una persona immagina moltiplica questo per gli innumerevoli amori dice ma sarà un amore molto diverso da quello che conosco attenzione attenzione adesso qui un altro scarto tra la vita presente e quella futura sarà un amore molto migliore in questa povera vita terrena l'amore si ripete quasi in uno stesso modo ma che ci andiamo a inventare qua cioè io sono fatto così capite non è che mi posso cambiare la faccia il naso le orecchie per dire no la personalità no non si può i corpi mortali poi come recinti di filo elettrificato impediscono l'estasi reciproca compenetrativa dell'amore celeste e non permettono agli innamorati di godersi nell'intima conoscenza spirituale chi è stato innamorato questa cosa la sa ma io credo che anche marito e moglie lo sanno anche quando si si arriva a quei rapporti così tanto intimi che danno vita all'intimità coniugale però la conoscenza spirituale intima non c'è perché tu non ci stai dentro il cuore dell'amato non ci stai dentro la testa di un'altra persona e anche il livello come dire di contatto dei corpi è sempre un contatto esterno può diventare in parte mi capite in quale dimensione ma è sempre non c'è una compenetrazione sentite cosa dice ora speriamo che nessuno si fa scandalizzare la fruizione delle labbra quindi il bacio terreno non si può paragonare al bacio di due anime nelle confidenze d'amore terreno rimane sempre un'ombra di dubbio dinanzi all'impossibilità di una comunicazione spirituale assoluta senza equivoci senza timore senza finzioni senza parole può darsi che una persona ti sta baciando perdonatemi e pensa a un altro possibilissimo tu non lo sai questo qui non lo puoi sapere quindi i limiti intrinseci dell'amore umano dell'amore terreno inoltre l'amore terreno diventa facilmente una monotonia e finisce che stanca io non ho avuto l'esperienza della vita matrimoniale sono stato soltanto con qualche annetto fidanzato ma non ho avuto l'esperienza però parlo con tante persone che sono sposate da tanti anni la monotonia c'è perché quello sempre sempre quello è capito non è che si può inventare qualche cosa siccome non è fattibile qui perfezionare realmente l'aspetto fisico degli amanti né ritornare agli spazi tempi felici del passato gli sposi finiscono spesso con sopportarsi con tollerarsi e delle volte con l'annoigarsi ahimè d'altronde il tempo soffia contro di loro e piano piano svanisce la bellezza svanisce la bellezza primiera svaniscono le bellezze le attrattive iniziali meno male che vanno spegnendosi anche i sensi ironizza i vecchi non notano chiaramente i loro difetti fisici dice Riccardo qui risponde ah tu non volevi deprimermi ma mi hai depresso certamente riportandolo un pochino con i piedi per terra alla povertà intrinseca degli amori umani non è mia intenzione il mio desiderio è di avvicinarti il più possibile alla verità convincerti che l'amore terreno è un pallido ritratto del grande amore definitivo celeste e quindi persuaderti a porre la mira dei tuoi amori nel cielo prevenirti dal canto di sirena di certi mortali che a furia di amare l'amore perverso si polarizzano in passioni assorbenti che chiudono le porte della patria capite cosa sta dicendo no? l'amore è proprio l'amore doc sulla terra non c'è in due parole certamente per carità non voglio adesso fare una depressione cioè c'è una piccola un piccolo pallore una piccola un piccolo un pallido ritratto quando l'amore funziona chiaramente specialmente prendiamo l'amore sponsale e non sempre funziona non sempre funziona quante sono le coppie vanno avanti vanno avanti trascinano in qualche modo non troppo entusiasmante annoiato stantivo normale che sia così per forza salvo veramente sporadica rara eccezione ma siccome molti pensano che questo sia il tutto si sfrenano in amori che diventano perversi e si chiudono le porte della patria e così la felicità che cercano negli amori perversi non la troveranno mai tu puoi averci anche avuto 10.000 donne se tu sei un donnaiolo e sei stato con 10.000 donne vediamo se poi è arrivato alla decimillesima sei appagato e sei felice vediamo infatti ce ne sono stati di personaggi di questo genere e nel frattempo ti sei chiuso le porte del cielo perché insomma con 10.000 fornicazioni se non te penti un po' insomma è abbastanza difficile andare in paradiso è tanto breve il soggiorno del viatore sulla terra dice tenera amata magari tu accettassi umilmente la tua condizione di pellegrino e come tale ti comportassi pellegrino uno che sta in cammino uno che sa che le cose più belle verranno e nella misura verranno nella misura in cui mi gioco bene in termini di santità la giornata terrena che il Signore mi concede di vivere ma questo la Chiesa ha sempre insegnato sempre compresi dice Riccardo perdonatemi le pause ogni tanto che siamo a tempo di farci un pochino digerire qualche concetto credo importante la mia brama di felicità mi porta a chiedere pere all'olmo bellissima proverbio popolare in questa vita ma adesso so che soltanto nel cielo l'olmo dà pere qui non ci sta quello che cerchiamo qui qui non c'è ecco perché io dico sempre stare attenti cioè chi si vuole sposare stia attento perché si vuole sposare perché i matrimoni fatti perché io cerco il principe azzurro la principessa rosa proietto tutte le mie aspettative di felicità in quello ma stai sicuro che resterai deluso al cento per cento il matrimonio è una vocazione soprannaturale il fine non è trovare cioè il fine è stabilire una comunione di vita con una persona che sai bene essere limitata ma che scegli di amare di accoglierne l'amore principalmente per fare cosa per cooperare con i divini disegni di popolare la terra quando le coppie cristiane erano ancora cristiane facevano 10-15 figli a famiglia quasi tutti amici miei e di noi stanno a dire e che gli diamo da mangiare ma che gli davano da mangiare cent'anni fa ma l'avete sentita le storie delle nostre bisnonne io l'ho sentita seduti a tavola dentro una stanza dentro una casa dove c'erano 15 persone di 30 metri quadri capite con il tavolone in mezzo dove c'era la polenta fritta rifatta che veniva fatta in parti più o meno uguali salvo quello per papà e mamma che siccome era poco non mangiavano loro e fa mangiare figli questo era un tempo questo oggi non c'è più eh dov'è il tuo tesoro lì è il tuo cuore mi disse Teneramata l'ha detto qualcuno di ben più grande di lei se tu meditasti spesso la tua prossima vita futura incominceresti a scorgere il tuo vero tesoro attenzione il casto amore umano in questa vita è come un assaggio del delizioso agape d'amore nella patria il casto amore la sessualità che molti scambiano con l'amore disturba la comprensione dell'amore celeste perché abbiamo già visto che in cielo questa cosa non c'è non c'entra l'amore terreno unificato con l'amore dell'altissimo cioè convertito in amore di carità e associato alla divina promessa della beatitudine serve a spronare il pellegrino ad affrettarsi sulla via della perfezione cristiana il buon amore è necessario perché il viatore progredisca e faccia progredire cristianamente gli altri poiché l'amore di carità lungi da alienare l'uomo lo spinge a perfezionarsi e a cooperare nel cristiano sviluppo del genere umano anche tra gli sposi deve esserci l'amore di carità che significa che il matrimonio funziona nella misura in cui lo sposo è completamente rivolto alla felicità della sposa e viceversa sapete come funzionano i matrimoni io mi aspetto da chi mi sta vicino questo 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 non me lo dà e quindi sono frustrato però quella che mi sta vicino si aspetta quest'altro 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 io non glielo do e quindi quella si sente frustrata e quindi siamo sempre a appiccicarci capite amore di carità e non è l'apertura alla vita un amore di carità dice fino a che punto anche qui quelli che vogliono vivere nella divina volontà ma una coppia che vive nella divina volontà perdonatemi può praticare i metodi naturali mia domanda provocatoria cioè vivere nella divina volontà vuol dire vivere nell'abbandono vuol dire non avere nessun dubbio che tutto quello che mi accadrà è quello che Dio dispone per cui se il nostro signore ha stabilito che una coppia non può avere più di due figli perché non ce la farà per tante motivazioni che Dio sa ma posta pure tutto il giorno può essere aperta la vita quanto i peri non gli vengono più di due figli e io ho conosciuto persone che pur non avendo tante vette di santità non hanno preso nessuna precauzione e con due figli sono rimasti e come mai e invece un'altra coppia che non fa così ne vengono dodici mi sono mai chiesti come mai come mai caso è un caso facciamo sempre funzionare quello che il nostro signore ci ha dato che non farlo funzionare è la rovina come mai io ho conosciuto non posso fare i nomi coppie che hanno avuto solo due figli non c'era nessun problema e sono sempre state aperte alla vita io ho conosciuto coppie aperte alla vita che ce l'hanno avute sette o otto dei figli li conosco sono ancora vivi sono amici bellissime famiglie amore di carità l'amore di carità prosegue serve da frugale refrigerio nel duro cammino di questo mondo serve anche perché i fidanzati vedete si sposino e generino più cittadini del cielo voi capite ogni essere che non nasce chi usa la contraccezione sta non voglio adesso far settimare il prossimo però ci sarà un cittadino quando si fa un figlio un figlio non lo fa per la terra un figlio non morirà mai se andrà in cielo sarà una sfumatura di maggiore felicità celeste per tutti sentite che dice l'amore di carità serve perché i fidanzati si sposino non perché vadano a cercare la soddisfazione dei loro desideri e sogni che non troveranno mai nell'altro perché quell'altro non essere limitato come te non è il padre eterno non ti può pagare allora si sposino e generino più cittadini del cielo cioè maggior quantità di sfumatore di felicità celesti delle quali tutte godremo nella nostra cosa occidentale perché perché a maggior quantità di glorificati corrisponderanno più nomi nuovi più doti di mana segreta un maggior numero di interrelazioni personali d'amore nel cielo più loti di gloria al nostro Dio e di conseguenza migliore felicità per tutti i cittadini della patria pensate a quei criminali che vogliono risolvere il problema demografico che vogliono spopolare la terra siamo circondati da questi criminali l'anticristo questi sono l'anticristo sentite che dice è meglio risolvere il problema demografico mediante la carità fraterna che non mediante l'aborto criminale e il controllo della natalità con mezzi illeciti problema demografico ma quale problema demografico ma spero che nessuno di quelli che ascoltano queste cose credino a tutte quelle cretinate che vanno dicendo questi qua in giro e non mi fate fare i nomi che tanto li conosciamo tutti quanti i nomi se non fosse per la vehemente passione dell'amore tante coppie non si sposerebbero nel considerare freddamente la responsabilità del matrimonio cristiano l'amore terreno serve infine della cosa principale perché il viatore conosca sia pure per remota analogia l'infinito amore con cui lo ama il Signore leggo a ruota così arriviamo alla fine che ci mancano cinque minuti dice Riccardo molte finalità importanti pur non essendo altro che un pallido riflesso dell'amore celeste e ce ne saranno altre che mi sfuggono in questo paratempo o che ignoro a causa del mio povero grado di gloria chiamo piccolo l'amore terreno perché lo confronto con quello del Cere ma non credere che lo minimizzo anzi ti raccomando di fomentarlo con prudenza cristiana i tuoi amori ricidi di questo mondo anche se sono piccoli ed effimeri il rapporto al momento attuale non però riguardo alla quinta dimensione formano l'unico motore automatico che possiedi per uscire spiritualmente dalla terra ed orbitare sia pure molto da lontano nel reggio cielo che ti attende parla di amori leciti eh quindi l'amore con la moglie l'amore col marito l'amore con i figli l'amore tra amici l'amore alla scienza l'amore al lavoro non amori strani eh quindi l'amore fondamentale che rende gli altri amori veri buoni belli unificanti ed eterni è l'amore di carità verso il nostro Dio questo è l'amore fondamentale amerai il Signore Dio Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze mai escludere l'amore divino dai tuoi amori terreni e se questi non concordano con il primo rifiutali posso dire quando un figlio spirituale una figlia spirituale andava da padre Pio a dire ho trovato il fidanzato l'ha fidanzato a parte che non voleva neanche sentire parlare se non c'era la castità assoluta assoluta manca un bacio per padre Pio ok dopodiché non bastava questo qui va in chiesa no lascialo proprio subito dice no abbiamo cominciato ad andare a messa insieme ci deve andare da solo o da sola poi non li parliamo se questi non concordano col primo rifiutali perché avrai un sacco di sofferenze dopo ma capeste quante coppie ho conosciuto dove cioè che purtroppo col seno di voi dice se avessi saputo era meglio eh ricorda sempre l'oracolo del profeta Isaia guai a voi figli ribelli dice il signore che fate dei progetti senza contare con me fate alleanze non secondo il mio spirito per raggiungere peccati a peccati citazioni bibliche queste qui eh questa è Isaia 31 poi c'è anche Isaia 39 figli infedeli figli infedeli che non vogliono ascoltare la voce del signore che dicono ai veggenti non abbiate visioni e ai profeti non fateci profezie sinceri diteci delle cose gradevoli profetateci illusioni scostatevi dalla via distoglietevi dal sentiero togliete dalla nostra vista il santo di Israele quando ti serve qualcosa chiedila all'altissimo se te la dà ringraziala ringrazio e se non te la dà ringraziala lo stesso perché te l'avrà negato a vantaggio del tuo futuro celeste non guardare la morte col binocolo a rovescio che la gioia ti serva per intravedere il cielo e la tristezza per meglio sospirare alla felicità futura la vita mortale si svolge come se il creatore non esistesse ma questo modo di pensare è falso il nostro Dio è attentissimo a ciascuno nei suoi amati figli mortali ecco non c'è molto da commentare a queste ultime parole anzi direi che è bene mettere punto qui e ci aggiorniamo se Dio vuole alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Madonna sempre e tutti vi protegga e la prossima